Ben trovati nel mio canale. Io sono Anna. E in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla serie La Promessa. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e attivare la campanella per essere sempre aggiornata. Scopriamo insieme cosa accadrà nella seconda stagione. Iana è inquieta. Ha scoperto che Manuel ha incontrato di nuovo Gregorio alle sue spalle e teme di essere in serio pericolo. Il suo fidanzato è uscito armato di pistola e lei teme che le cose non finiranno bene in quell'appuntamento con l'ex maggiordomo. E le sue premonizioni sono esatte. Quando Manuel si reca nel luogo dell'incontro, viene sorpreso alle spalle da Gregorio, che gli punta contro un grosso coltello, pronto ad ucciderlo se non rivela dove si trova Pia a Darre. Quello che Gregorio non sa è che Manuel ha un asso nella manica. Lo scontro decisivo. Manuel affronta Gregorio con l'obiettivo di convincerlo a fermare le sue molestie nei confronti di Pia. La situazione è di grande tensione. L'ex maggiordomo di La Promesa lo neutralizza sotto la minaccia del coltello, pronto ad ucciderlo se non rivela dove si trova Pia a Darre. L'ex maggiordomo non sa che Manuel porta con sé un'arma da fuoco e non esiterà a usarla se necessario. Ne consegue una feroce lotta. Gregorio non ha intenzione di lasciare andare la sua preda così facilmente, e il giovane Luian non ha altra scelta che estrarre la pistola. Manuel ucciderà Gregorio? La complicazione delle indagini. La notizia della morte di Gregorio cade come una vera bomba sulla promesa. Romulo deve fare i conti con le pressioni del sergente Burdina, che conduce un'intensa indagine per chiarire chi lo ha ucciso. Manuel diventa il principale sospettato perché, inoltre, nel vecchio mattatoio è stato ritrovato il corpo senza vita dell'ex maggiordomo, colpito al petto. Proprio nel luogo in cui si erano incontrati giorni prima. Inoltre, il sergente scopre tra gli abiti di Gregorio una busta che contiene del denaro. Sembra che Manuel volesse consegnare all'uomo una somma in cambio della promessa di dimenticare Pia e il suo bambino. Questa busta potrebbe complicare le cose e dare una svolta alle indagini. Manuel sarà coinvolto? I dilemmi di Romulo e il ruolo di Catalina. Romulo racconta a Pia della morte di Gregorio, ma le chiede di aspettare prima di rivelare a tutti che è viva. Nel frattempo, Cruz spera solo che questa morte non li colpisca. Tuttavia, l'arrivo del sergente Burdina con una busta di La Promesa che Gregorio aveva con sé il giorno del suo omicidio sembra complicare molto le cose. La busta che il sergente Burdina trova tra gli effetti personali di Gregorio dà una svolta radicale alle indagini. Romulo deve prendere una decisione difficile per non coinvolgere Manuel, anche se ciò significa infrangere l'etica. Inoltre, Manuel avverte Catalina che avrà bisogno di lei per difenderlo quando sarà il momento, il che suscita l'intrigo della giovane donna.